sono le sede 10 è tardissimo Dani Dani ma cosa c'è e mi spiace rovinare il tuo sonno di bellezza ma sono le 6 e 11 ormai le 6 e 11 oh caspiterina siamo in ritardo Roby esattamente Dani devo levarmi questo pigiama e dobbiamo prepararci per essere bellissimi a scuola hai proprio ragione io non posso farmi le foto per instagram così in realtà Dani dovrei dirti una cosa non so se ti piacerà che sono bella già lo so e in realtà volevo dirti che hai sbagliato a coordinare questi brutti calzini con il tuo pigiama beh Roby in realtà non è così il contrasto va molto di moda ma cosa ne capisci tu di moda mica sei bella quanto me ovviamente io sono il più bello va bene tu sei il più bello e io la più bella che c'è sul pianeta terra è la sveglia che ore sono? è la sveglia alle 8 meno 5 minuti buongiorno amore io voglio dormire un altro povero non fare il pigrone dobbiamo andare a scuola su prepariamoci prepariamoci ma io sto già vestito bene così no? Roby Dani quel pigiama lo hai da un anno lo so ma non puzza ancora abbastanza Dani scusa un secondo sorridi ma ma guarda che è una cosa tra i denti una cosa tra i denti dici la mia colazione che fortunata che sei io io non c'ho niente questo no questo assolutamente no troppo vecchio è un posto da nonna mi so proprio che dovrei andare a fare un po' di shopping oh il mio regno tutte le mie belle camicie messe dalla più scura alla più chiara oggi come mi voglio vestire c'è il sole quindi direi ci sono qualcosa di chiaro potrà andarmi benissimo risalterà ancora di più la mia bellezza è caduta oh no no si è stropicciata quindi devo cambiare tutto oh mio dio no perfetta come sempre su muoviti muoviti ma che cosa che non va questo voglio andare così a scuola no 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 comando io dobbiamo cambiarci quindi mi vuoi dire che dopo che ho scelto il vestito mi lasci in pace si basta che puzzi di meno rispetto a quello che hai ok allora scelgo questo ma non l'hai neanche visto e che mi importa di quello che indosso guarda senti puzza un po' di meno di questo direi che potrebbe andare bene è arrivato il momento di scegliere il mio vestito io la mattina per scegliere i vestiti faccio così metto la bella faccio due giri ehm quanti ne ho fatti vabbè due giri salto e scelto che bel metodo per scegliere i vestiti io ogni mattina mi chiedo come faccio ad essere così bella allora nani tra tutti i miei trucchi vediamo cosa mi serve ovviamente un bellissimo rossetto questo rossetto mi sta proprio bene vabbè pensavo hai finito no che ti credi che le donne ci mettono poco in bagno per farsi bella guarda non lo so ma qui c'è un bel po' di bellezza che deve farsi ancora più bello per andare a scuola guardati si mi guardo e allora ma tu non hai qualcosa come le altre donne tipo per toccarti quelle cose lì cioè la mattina non fai mai nulla almeno io mi lavo non faccio come te che puzzi dalla mattina alla sera dovrei avere qualcosa vediamo si forse questo si c'è un po' di polvere da molto tempo che non lo utilizzo eccolo qui e quindi con questo diventerai più bella sicuramente sono tutte cavolate mica è questo cosino qui che ti fa diventare bella e poi tu sei già bella grazie amore anche qui a scuola siamo sempre i più belli non c'è niente da fare ma d'altronde hai visto questi visini scusami ma in questa costina sicuramente non ci entrano i libri e sei a scuola cara mia beh si vede che sei proprio un principiante non lo sai che io ho dovuto scegliere tra i libri e l'essere bella non vedi come mi sta bene questo po' di nuovo e poi neanche tu hai i libri sono così bello che ho convinto quel mio amico brutto di classe a portare tutti i libri anche per me non come te che sei brutta o almeno non sei bella quanto me poi anche davanti questo è il mio corridoio e devo fare io la mia passerella ma chi si crede di essere eh cioè guarda che io ho ricevuto 10 su 10 in bellezza questa storia ciao a tutti ehm oh no che ho fatto e ho presi ehm li vuoi spiegare perchè hai tutti questi libri? ehm perchè metà sono i miei e metà sono quelli dei miei compagni di banco è molto bello è bellissimo e non vuole portare i libri perchè dice che la cartella è brutta e allora li porto io in realtà il tuo compagno di banco ha ragione lui sicuramente sarà più bello di te tutto che hai qui in faccia state sempre in brufo non ci fa così tu invece sei sempre bellissimo è dentro perchè fuori sei brutto e lo sai non ti puoi permettere io sono bella vero rispondete rispondetemi finalmente è arrivata l'ora di pranzo non vedo l'ora di mangiare anche se per rimanere così bello devo fare una vita molto molto particolare e sentiamo cos'hai scelto di mangiare oggi non ho scelto oggi devo mangiare per essere così bello una carota sì soltanto una carota stelacchiata e basta una carota le carote fanno ingrassare io non posso permettermi di arrivare non in forma quest'estate infatti questo sarà il mio pranzo una foglia di basilico e basta? beh certo mio caro che ti pensi che per avere questo fisichetto qui puoi mangiare tantissime cose? assolutamente no che modo raffinato e bello che hai di mangiare beh certo mica mi posso sporcare mmm che fame ho portato il pranzo capito mettere una pizza per me ah finalmente finalmente sì 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 oh mmm che bello mangiare quello che vogliamo mmm tanto rimani sempre bella tu vero? ahah anche tu anche tu oh sì sai che ti dico su questa pizza ti metto anche un po' di popcorn si adesso sarà ancora più buona mmm ah ah oh oh mmm 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 me la mi ha fezzato la pizza ma come hai fatto a finirla così in fretta? è il momento dei pop corn pure i pop corn? ah 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 come sei bella mentre mangi sì non da pedicure metti me l'alle 5 e mezza perché c'ho già il parrucchiere alle 5 eh dimmi eh dobbiamo farci le foto è assolutamente importante eh ti chiamo dopo ho una cosa importantissima da fare ok ciao 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 niente era il manager della mia bellezza con il quale ho parlato e ho programmato un pochettino sì lei cosa vuole fare? va bene eh fammi un po' di foto devo aggiornare il mio profilo social ma assolutamente lo al massimo ce le facciamo entrambi le foto ah ah devi sempre rovinare poi le mie foto va bene io rovino magari le migliori avrei qualche like in più solo perché ci sono io capirai sorridi ok no un altro beh sorridi vediamo no 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 assolutamente no e di così 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 così anzi le faccio solo a me assolutamente no dammi questo cellulare ah dammelo foto a me foto a me foto a me ma è bellissima ma è bellissima sui social ma non sei uscito male eh ci sono alcune che sono uscita molto peggio e poi questa è divertente almeno allora aspetta eh mo ne faccio una anche io a te sorridi eh guarda la mia è molto più bella della tua ah 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 anche io adesso la pubblicherò sui social e metterò hashtag belluna commentate anche voi qui sotto nei commenti scrivendo hashtag belluna se ti è piaciuto questo video lascia un bel like e iscriviti adesso al canale per riperti altri video in questo tipo anzi commentate qui sotto altri versos che potremmo fare noi ci rivediamo domani in un prossimo video ciao ciao